E parliamo adesso dello spiaggiamento delle balene, un fenomeno purtroppo sempre più frequente. I soccorritori hanno riportato in mare due balene spiaggiate da due giorni su questa spiaggia dell'isola nord della Nuova Zelanda, la stessa dove giacciono le carcasse di 55 balene sulla sabbia. Un fenomeno dunque che continua a ripetersi e del quale neanche gli scienziati riescono a fornire una spiegazione. Solo ieri sono state scoperte 75 balene spiaggiate, 21 erano ancora vive, 18 sono state riportate in mare. Due giorni fa su due isole dell'Australia meridionale si sono spiaggiate più di 120 balene, sono morte tutte. Un vero e proprio spiaggiamento in massa dei cetacei, anche delfini e capodoglie che sta mettendo in crisi gli studiosi. Le balene nuotano seguendo non la vista perché sott'acqua si vede poco, non si vedrebbero neanche la coda, ma l'udito e può capitare che magari il capobranco abbia dei problemi all'udito o perché i parassiti gli hanno procurato una malattia o per delle esplosioni vulcaniche o per delle esplosioni causate dall'uomo. E allora se il capobranco va magari a riposarsi in un vasso fondale ecco che tutte si spiaggiano, insomma fanno un po' come le pecore. Grazie. Grazie.